ragazzi buona giornata buona domenica da mickey crow e benvenuti in questo brevissimo video in cui regalerò qualche mod da 200 vbac alcuni ragazzi adesso andiamo a vedere se posso già fare di regalo sono passati già i due giorni uno ha vinto il torneo server privati non serve privati veloci eravamo in pochi quattro giorni fa in live su fornit andiamo subito a vederlo un emote da 200 vbac andiamo nel negozio oggetti ce n'è praticamente solo solo una ed è questa giravolta sincopata lui si chiama diego cla più eccolo qua marco 200 vbac giravolta sincopata regalato regalato a lui quindi così a posto lui adesso vediamo gli altri due ma non dovrebbe ancora essere ora vediamo comunque così faccio vedere grazie marco che mi hanno ricordato che non passati più di due giorni al diego cala più perché me ne ero onestamente dimenticato grazie marco vediamo ace river che sarebbe pro cione game ma anche ancora un giorno lui deve aspettare e vediamo anche derix praticamente è un ragazzo che a reggio ha vinto due serate di indovina e devianto più parole quindi ha donato i 200 vbac a tutti e due grazie ovviamente lui vediamo se se c'è ma lui è onestamente non mi viene neanche fuori quindi vuoi lasciare magari un commento sotto il video vediamo se come derix c'è qualcosa non so se ecco adesso però comunque non mi viene fuori quindi dovrebbe essere lui quindi ancora due giorni quindi ancora niente ragazzi ora è tutto spero che almeno diego cala più sia contento di questo regalino una buona giornata a tutti da quale giornate mi ricordo che avevo un buon video di giù hey guys